non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone dai e bella a tutti i ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi un sacco di novità interessantissime importantissime per quello che riguarda il futuro di fortnite e non sto parlando di un futuro così tanto lontano in quanto mi riferisco ovviamente alla patch 11.50 quella che sta per arrivare ma non solo ragazzi è appena stata resa nota la notizia che ci sarà una skin completamente gratuita che si potrà riscattare in un modo molto molto particolare ma anche molto interessante e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi aggiornati sempre sul dietro le quinte di fortnite prima comunque volevo ringraziare non abbiamo neanche fatto vedere i titoli ma chi se ne frega volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live sulla piattaforma viola dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per essere ogni giorno in tantissimi mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video delle 13 e 30 prima la domandina ve la devo fare lo sapete ci tengo tantissimo ragazzi a leggere i vostri commenti proprio qua sotto domanda di oggi un grande classico di fortnite ma secondo te qual è il pump più forte è il pompa del nonno oppure il tac scegliamo diciamo tra questi due che si può riassumere colpo singolo oppure colpo multiplo secondo me ragazzi il tac rimane ancora il più forte è vero è vero che lo spaz epico e leggendario ti demoliscono ma se dovessi scegliere io vado per tac epico leggendario comunque della stessa rarità troppo troppo forte ditemi invece qual è secondo voi il più forte qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e non partono più di slide e vando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere il primo argomento di oggi che tratta proprio della nuova skin ragazzi si parla degli australian summer smash 2020 che tra l'altro verranno giocati nel weekend che sta per arrivare quindi sabato 1 e domenica 2 febbraio cosa succede perché si può ottenere questa skin che è tra l'altro molto molto interessante praticamente succede la stessa identica cosa che è capitata per la skin dark tricera ops ora voi mi dite non me lo ricordo non vi preoccupate ve lo ricordo io quando ci fu la nintendo switch cap al termine della season del capitolo 1 della season 10 era possibile switchare il proprio server sui server asiatici giocare anche con lag estremi la nintendo switch cap fare 20 punti e automaticamente ottenere il premio che era appunto la skin che poi anche per noi europei uscì invece a pagamento nello shop la stessa cosa succede appunto per questa skin giocate il torneo o il primo cioè quello del primo febbraio per ottenere 20 punti quindi per portarvi a casa la skin che vi sto facendo vedere stiamo leggendo dei tweet che confermano quanto vi ho detto vi pubblicherò su instagram e lo dirò più spesso in live comunque l'orario esatto per quanto riguarda il fuso orario con l'australia che dovrebbe essere di otto ore loro dicono eastern 36 am ve lo scriverò bene in un posto su instagram in modo da non sbagliare e ovviamente se avrò tempo parteciperò anche io e otterrò questa skin esclusiva che magari potrebbe anche mai arrivare a noi insomma in anteprima e non partono mai gli slide ma quindi passiamo subito al secondo argomento di oggi ragazzi ed è il post pubblicato direttamente da fortnite status che dicono abbiamo rilasciato una pace infatti ieri pomeriggio intorno alle 16 se non ricordo forse un po prima intorno alle 13 c'è stato un update di 300 mega per quanto riguarda il computer ora non so bene per le console questa pace ha fissato alcuni bug che effettivamente davano un po fastidio abbiamo un elenco preciso di tutto quello che è stato modificato zipline sono tornate a pieno carico a pieno regime hanno modificato il problema dove si editavano dei pezzi delle nostre strutture anche se in realtà non premevamo il tasto per editare stesso problema anche per i suoni che alcuni alcune volte non venivano sentiti non venivano attivati sul pc problemi anche per quanto riguarda la quick bar che a volte invece si attivava su diverse piattaforme quindi sistemato anche quello è un problema anche per quanto vi riguarda nella challenge delle fermate degli autobus una delle ultime challenge non tutte le fermate venivano conteggiate adesso invece sono conteggiate tutte problemi anche per quello che era il tasto f che non riusciva ad essere attribuito appunto a quello a cui viene assegnato quindi in poche parole sistemati anche questi bug che sicuramente sono nient'altro che un preambolo per quello che riguarda la vera e propria patch in arrivo prestissimo e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi alcuni hanno notato che per quanto riguarda la skin del super bowl è stato aggiunto uno stile nuovo voglio però farvelo vedere direttamente in un video perché oltre al nuovo stile c'è anche la il nuovo ballo guardate ragazzi che roba che hanno messo ecco qua come vedete questo è lo stile dei san francisco 49ers quindi nuova squadra che si aggiunge alle molteplici ai molteplici outfit che possiamo selezionare per i nostri giocatori di rugby è bellissimo anche queste mot freemix non si capisce bene se sia poi ottenibile gratuitamente o semplicemente nello shop ma sicuramente un dato di nota che ci fa impreziosire il nostro armadietto molto molto divertente va un pochettino a simulare l'esultanza di quando si fa un touchdown e arriviamo all'ultimo argomento di oggi anzi al penultimo ragazzi ufficialmente si scopre che sono pronti quelli di epigames con la patch 12.00 la patch 12.0 ovviamente sta ad indicare la season 12 cronologicamente parlando perché hanno inserito con l'update di oggi alcune stringhe di codice che come vedete vanno a riprendere proprio il numero quanto citato sopra la version 12.00 sappiamo che settimana prossima arriverà la patch 11.50 non sarà l'ultima probabilmente arriverà poi anche la 11.60 e poi si passerà direttamente alla 12 perché il 20 febbraio la season terminerà e si spera di non incappare in un altro buco nero ma di switchare direttamente al capitolo 2 tra l'altro per tutti quelli che si fanno delle domande intanto stanno passando a schermo dei test che hanno inserito fortnite public test creative far fortnite public test competitive e fortnite public test app bundle questi sono proprio delle prove che ci fanno capire che comunque il lavoro è sempre all'ordine del giorno ma quello che vi stavo dicendo ragazzi è in realtà relativo all'evento di questa season sì perché in realtà non si sa molto di questa storyline che è passata un po' inosservata abbiamo cercato di capire la gente del caos il discorso del bene contro il male diciamo che si siamo concentrati si sono concentrati su questi argomenti ma in realtà non esiste un vero e proprio evento se non che nella mail che direttamente il supporto di epic games invia a questo ragazzo dice we are andiamo alla quarta riga we are all excited about the next fortnite event e si vocifera che sia un evento in questa season della durata di due settimane non si hanno ovviamente altre informazioni staremo a vedere e speriamo che qualcosa di un po più movimentato chiuda in bellezza questi cinque mesi di season 1 beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali io sono in live su twitch ciao ciao